Siamo lo Stefano Faraldi, direttore della Casa di Cura Agni Azzuri e Le Grange, che presenta oggi un'iniziativa importante. Ci vuole parlare? Sì, per noi è un gravissimo piacere fare questa festa con i nonni. Lo scorso anno con i nostri nonni eravamo andati al comune di Riva Ligure e quest'anno invece abbiamo voluto fare il percorso inverso. Abbiamo invitato tutti gli anziani del comune di Riva Ligure e i bambini delle scuole, anche primaria di Riva Ligure, i nostri ospiti per festeggiare questa bellissima giornata, che anche il tempo ci ha dato una grandissima mano, per festeggiare sia i nostri nonni e anche i nonni del comune di Riva Ligure.